Il cuore della casa veneta Assieme ai portici ombrosi Spesso orlati da belle viti Qui intorno al fogher si riuniscono I contadini si riunivano Perché oggi c'è la tendenza purtroppo A farli scomparire Adesso quasi per ostentare anche esteriormente Il superamento di una miseria tavica Il contadino tende a demolire la vecchia casa Che era poi molto razionale Specialmente quei portici e col fogher Per adattarsi a delle mode correnti E creando troppo spesso delle stonature Vorrei sentire il tuo parere Andrea Zanzotto Su questo argomento Di quello che succede nelle nostre campagne E' anche giusto che questo rinnovamento avvenga Se non che invece che verificarsi Nel segno di una nuova razionalità Di una più ricca vitalità spirituale Di una più profonda partecipazione Ai valori dell'ambiente Della psiche umana Di tutto ciò che vedi più alto nell'uomo Si è verificato in modo caotico Qualche cosa di sguaiato Di oscuramente ostile Alla natura e all'uomo stesso E' estremamente difficile decifrare I perché di questi avvenimenti In ogni caso guarda Quella che è la devastazione Che si sta compiendo giorno per giorno qui Di tutto il nostro paesaggio E' qualche cosa di Niente che fa star male Insomma cosa vuoi Questo è il tessuto La casa rustica Gli ambienti rustici Erano il tessuto connettivo Di tutta una civiltà Che avrebbe dovuto essere In qualche modo superata Ma salvaguardata Nelle sue costanti Più profonde e vive